Caccia il pacco! Uuuuuh! Siamo buoni! Fonda tutte le pareti così! Ah mio Dio! Uuuuh! Appena il smr Tico 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 Ah mi ha piaci! La prudenza non è mai troppa Oh yeah baby! Indovinate cosa c'è dentro il pacco? Un altro pacco Un pacco dentro il pacco Un pacco dentro il pacco Ah mio Dio! Uuuuh! E' quel pacco! E' quel pacco! Hanno sei Collector case Ripedizione da collezione Ma vi voglio sapere adesso Chi è che ci invidia? Chi è che ci invidia adesso? Oh! Io ho già visto una cosa che adoro! Che figata! Che figata! Quante... E' la skin... Cioè l'uniforme Il copricampo più figo di NemoSix No! Non lo aprire! Non lo aprire! Voto in chat! Voto in chat! Nooo! Intanto... Quanto è bello! Raga! Quanto è bello! E ora vediamo un po' se il labio caccia fuori un pezzo forte! Come si fa? Vai! E' impossibile! Oh! My! God! Potrei urlare fortissimo! Mia dea! Mia dea! Mia dea! Fermo! Fermo! Sotto c'è roba! Calmo! Una cosa per volta! Allora! Boh! Non so che cos'è! E' l'emozione! L'ha testato! L'ha testato! L'ha testato che noi siamo fichi e ce l'abbiamo tra le poche persone nel mondo! E' l'ha testato! Questo magari non dovresti aprire forse! No! Non l'apriamo allora! Non l'apriamo! Ma si! Apriamo tutto! Per la scienza! L'ha testato! Il nostro è il 3274! Poi qua dentro ci sono un altro bel po' di codici per skin army e prodotti in game che verranno regalati a qualcuno di voi! Oh mio Dio deve aprire la busta! Maria apri la busta! Cosa ci sarà? Vediamola! Ma che belle ragazzi! Guardate tutto il team che gioca a palle di neve! Ma ragazzi quanto sono F-I-G-H-E queste! Queste! Queste tipe! Sono la figaggine! La toppa! Con scritto veterano operatore veterano e la data 2021 con pure l'anno 6! Poi abbiamo un pacchettino alfa in real life! Che però io non so se aprirei adesso! Mi sa di Thermite! Però non lo aprirei adesso! L'apriamo poi! Vediamo! Sì! In una prossima live! Perché figli i pacchettini alfa in real life! Troppo belli! Anzi! Facciamo così signori! Se questo video arriva a 5000 like! Estrarremo a caso una persona che ha scritto qua sotto nei commenti e glielo regaleremo! Mi piace l'idea? E adesso signori siamo al momento clou! Quello che tutti stavamo aspettando! Di alzarlo! Di portarlo in alto! Lui! Il! Martello di Slece! Perché va montato! Oh mio dio! Questa è una parte! Quanto pesa! Questa è un'altra parte! Oddio facciamo piano per favore! Lo assemblo! Lo assemblo! E tu il piedistallo devi tirare fuori! Questo! Ho l'ansia! Uuuuh! Raga! Che figata! Ma i dettagli! I dettagli! Attiello! Attiello! No no no! Aspetta! Aspetta! È pesante eh! Guardate! Ha il fondo! Ha il piede di porco! Come? Come l'originale! Proprio quello di Sledge! Come proprio quello di Sledge! Oddio che bello questo! Più di stallo! Tieni il martello! Tieni il martello! Mamma mia! Posso urlare? Devi! Tappatevi le orecchie! Che bello! Ma c'ha pure... C'è la stoffetta uguale! Un po' sfilacciata! Un po' vissuta! Il martello in certi punti è tipo finto sgraffiato! Finto usato! Raga è o non è la figata dell'anno! Wow! Uno dei pacchi più belli di sempre se non il pacco più bello di sempre! Un'emozione! Un'emozione! Veramente incredibile raga! Incredibile! 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 Che bello il martello! Il martello raga! Voi non avete idea! Pesa veramente! Come un martello! Sì! 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 Pesa! È solido! Se lo prendete... Vedete che la punta bomba giù! No! Che fai? Che fai? Che cosa? Fermo! E niente! Il bambino che a lui è venuto fuori! Wow! Wow! Raga! Tutti in chat! Mi raccomando! Tutti quanti! Un voto a questo pacco! Un voto al collector case dell'anno 6 di Rainbow Six! Sì! Vogliamo sapere il vostro voto! Perché il nostro potrebbe essere più o meno che tenda infinito! Più che tenda infinito però! POPRO! POPRO! POPO! 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 Bello! Wow raga! Sono veramente... EUFORICO! Sono veramente euforico! Ma chissà come si comporterebbe una vera e-girl! Una e-girl professionista di fronte a una collezione del genere! Ma che cosa abbiamo qua? È già arrivato Babbo Natale! No! Aspettate! Perché io devo vedere le cose! Poso un attimo! Ecco! Mio marito! Perché il pad ormai è la mia vita! Quindi siamo sposati! Un pacchettino! Che carino! Perché il suono è molto carino! Dentro ci deve essere qualcosa legato di sicuro a Rainbow Six! Che però non voglio aprire perché è un pacchetto così fatto bene! SHARM! C'è scritto pure SHARM pack! Oh! No! Ragazzi! Guarda... Guardate! È lui! È Tachanka! Versione unicorno! Ma... Guarda... Siamo uguali! Sì! Cioè... Non occorre neanche più che vada a cercare i tipi su Tinder perché io l'ho trovato! Il mio tipo è lui! Guardate! Siamo... Siamo perfettamente combinati insieme! Oh! No! Ma le hanno fatto quelle orecchiette pelose! Carine! Io le ho ordinate le cuffie così eh! Mi arrivano a Natale così dopo veramente siamo uguali! Sì! Raga! Ma questo martellone qua! Oddio! Ma com'è grosso e com'è pesa! Ma... Sì! Ce l'ha quel... Quell'operatore! Quello pelato! Il pelatone! Il pelatone! Cioè... Conosco un altro pelato con un martello grande! Però no! Questo qui è quello lì del gioco che sfonda tutte le pareti così! Ma sì! Che bello! Io credevo si chiamasse Torre! Invece no! Ma... Cioè... Lo so che ha un altro nome! Ma c'è anche proprio in fondo la forchetta! Oddio! Com'è bello! Tipo... Il mio martellino! Guardate! Guardate! Quanto sono figa così! Guardatemi! Ma qui ci va il momento smr ragazzi! Iniziamo a parlare sottovoce! Tico 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 tico! Non mi stupare! Non mi stupare! Non mi stupare! Sono troppo bella! Non mi stupare! Non mi stupare!